Dunque, sei eoni in quattro differenti categorie. Allora, vi aspettavate un riconoscimento così importante o è stato un fulmine, cioè il sereno? Vuoi rispondere? Il canno è sempre un po' un terno all'otto, per cui ci speri, poi non sai mai come va a finire, le giurie sono ogni anno differenti, hanno dei criteri differenti, giustamente dal direttore, dal presidente della giuria, quindi ci speri e è andata bene. Senti, quali sono secondo te gli elementi del progetto di Mon Blanche, di B2B6, che hanno convinto queste giurie? È una campagna con un'idea molto semplice, è una piattaforma creativa con un'idea molto semplice, che crea un livello di engagement molto veloce, immediato, accessibile a tutti, internazionale e ha generato tante cose diverse, ha generato un sito, un film, un evento, un festival e tanti collaterali per spingere la campagna. Credo che siano stati questi, per cui tu hai detto in categorie diverse. Non solo è stato, ha vinto dei leoni in categorie diverse, ma ha fatto un paio di mesi convincendo in giro per il mondo tante giurie, l'ultima è stata di One Show, quindi tante giurie diverse che si occupavano di comunicazione da un punto di vista diverso e ognuno l'ha premiato. Cose semplici funzionano ovunque e comunque.